Musica e animazione al Centro Storico per celebrare il Carnevale. Si intitola Carnival Selfie, l'evento che animerà la piazza in occasione della festa dedicata alle maschere. In programma un DJ set con Simone Ace e Graziano Lacognata, uno spettacolo con artisti brasiliani dal titolo Brasil Samba Show e uno spazio dedicato al rap con il cantante catanese Lelfo. Concluderà la serata il DJ catanese Funky Man. L'evento è promosso dall'assessore Valentino Granvillano con la direzione artistica di Dario Melodia. Il messaggio è che assieme, e lo abbiamo dimostrato, assieme a tutte queste associazioni si può fare tanto nella collaborazione generale e si possono anche gestire eventi di livello e penso che ci siano i presupposti per poter gestire un Carnevale che sia anche da attrattore rispetto alle città limitrofe. La volontà di gestire eventi di livello su Gela è quella che ci porta a dire non necessariamente dobbiamo andare fuori ma possiamo anche rimanere qui a goderci delle belle cose. È un programma innanzitutto molto vasto rispetto perlomeno agli altri anni. La particolarità è che abbiamo diviso le giornate in base a target differenti. C'è una giornata dedicata ai bambini, una giornata dedicata ai giovani, una giornata dedicata alle famiglie in generale. Quindi già questo è una cosa particolare. E poi l'idea di questo Carnevale è quella di rilanciare l'entusiasmo dedicato a questa festa perché negli anni capisci bene che si è perso negli anni e quindi quest'anno magari con il coinvolgimento dei giovani, dei giovanissimi e di così tante associazioni che partecipano vediamo di riuscire a coinvolgere più gente possibile che sia una bella festa, divertente, tranquilla e sicura per tutti. L'appuntamento è per sabato 10 febbraio a partire dalle 22 in piazza Umberto I.